Il reshoring può aiutare a rafforzare l'immagine e la reputazione di un'azienda? La domanda l'abbiamo posta a Davide Ippolito, fondatore dell'agenzia Reputation Rating. Ascoltiamolo. Grazie mille, buongiorno. Per parlare di questo mi serve fare un piccolo passo indietro. Quando nel 2019 il CEO di BlackRock, Larry Fink, disse nella sua lettera agli investitori bisogna guardare oltre il profitto, ha creato una forte linea di demarcazione tra un prima e un dopo. Per guardare oltre il profitto è strettamente legato al tema della reputazione e il reshoring come pratica impatta non su una, bensì su molte dimensioni della reputazione. Pensiamo per esempio alla scarsa qualità della manodopera locale che spesso impatta sulla qualità dei prodotti e sul rischio della perdita del made in, piuttosto che il rischio di perdita di competenza manufatturiera in Italia che impatta sulla corporate social responsibility, gli incentivi governativi, l'aumento delle pressioni politiche che impatta sulla reputazione della governance e sulla reputazione nei confronti delle istituzioni, la difesa della proprietà intellettuale che impatta sulla capacità di innovazione di un'azienda. È chiaro quindi che se a questo ci andiamo ad aggiungere il web e quindi l'aumento dei punti di connessione in rete, immaginare un caso come quello che nel 1996 scosse la Nike rispetto allo sfruttamento di minori per la produzione di palloni, oggi diventa qualcosa che si può smascherare in pochi nanosecondi. Quindi avere una filiera efficiente, chiara e trasparente diventa un elemento strategico fondamentale per la crescita economica. Ringrazio Davide Ippolito. Allora, professore, quanto costa la sostenibilità, non tanto intesa in senso green, ma intesa nel senso più ampio per un'azienda? La sostenibilità è fondamentale perché è una delle leve della reputazione delle imprese e la sostenibilità va intesa in tre termini, cioè quella ambientale, quella sociale, come si ricordava nel servizio, e anche quella economica. Riportando in casa l'impresa e la filiera si indubbiamente riesce a trasformare la propria produzione rendendola più sostenibile e quindi favorendola più sostenibile.